Il nuovo sindaco di Cepagatti, il nuovo si fa per dire al suo secondo mandato, Egino Cantò, ha votato il 64% dei cittadini. Un commento a caldo? Devo ringraziare tutti i cittadini di Cepagatti perché mi hanno voluto di nuovo a capo di questa amministrazione come sindaco di Cepagatti perché penso che abbia agito veramente bene in questi anni e quindi grazie a loro. Il primo punto nell'agenda tra gli applausi degli abitanti di Cepagatti. Il primo punto è l'asilo nido comunale. Per la prima volta dopo 30 anni riusciamo a fare a Cepagatti un asilo nido comunale. Spenderemo circa 1.700.000 euro e questo è un vanto perché ripeto dopo 30 anni, l'altra volta il Parco Santuccione, adesso l'asilo nido comunale. Per cui veramente noi ci teniamo a spendere i fondi del PNRR, oltre a questo andiamo a fare la ristrutturazione di tutte le scuole del Paese e quindi grazie veramente per quello che stiamo facendo. Ha vinto la lista Cepagatti-Ce che è una lista composita, diciamolo pure, un po' di più di centro-sinistra ma ci sono anche componenti del centro-destra. Come si riverserà questo nell'eventuale criterio della scelta della squadra di governo della Giunta? Guardi, io l'ho sempre detto dall'inizio, farò, terro conto sia dei più votati che delle zone. Quindi rappresenterò anche tutti i partiti e mi farò carico di tutto, però ecco, la scelta sarà in questo termine. Un messaggio ai suoi cittadini? Il messaggio è che quello a cui tengo soprattutto è Piano Marino. Loro hanno la problematica terna e io starò sempre con loro, sempre al loro fianco. L'ho detto in campagna elettorale, se Terna non darà i fondi per tutti gli abitanti di quel posto, io non firmerò alcuna convenzione. Per cui i cittadini stiano tranquilli perché avranno l'appoggio del sindaco Cantò. Adesso ci vuole da tutto il comitato un applauso al nuovo sindaco di Cepagatti. Grazie, grazie, grazie. Grazie veramente, grazie Cepagatti e grazie a tutti i miei candidati. Veramente sono state una forza bellissima. Grazie, grazie ai miei candidati.